Buongiorno a tutti e benvenuti da 4WD Italia. Oggi andiamo a vedere una preparazione su un Wrangler JL quattro porte, una delle nostre preparazioni omologate e iniziamo magari dalla cosa più evidente che ho qui vicino che è questo paraurti della RB in acceo 5 mm, un paraurti vero heavy duty, all'interno del quale abbiamo installato un vericello della Warn, un VR EVO 10 con cavo tesside che è un ottimo vericello. La preparazione è stata sviluppata in funzione della misura degli pneumatici che sono sempre la fondamenta della preparazione stessa sulla quale si costruisce poi tutta la struttura. In questo caso parliamo di pneumatici 315 R17 della BF Goodison del K2 con questi bellissimi cerchi, tra l'altro sono gli stessi che montano la Militem. Abbiamo utilizzato un assetto molto tecnico, perché sull'assetto siamo veramente accaniti, nel senso di voler fare in modo che poi l'esperienza di guida una volta che la Jeep è preparata sia migliore di quando era originale. In questo caso abbiamo installato molle e ammortizzatori Urbanemu, puntoni anteriori e inferiori regolabili, 2 barre Panhard e tutto quello che sono biellette per la stabilità di 35 e quant'altro in maniera tale che l'assetto sia stato regolato con le geometrie giuste e che permetta una guida bella, proprio gradevole, anche se la vettura è stata abbastanza stravolta. Poi magari andiamo verso il posteriore dove troviamo alcune cose, qui c'è il fratello gemello del paraulti anteriore, dimenticavo sia su quello anteriore che su quello posteriore li abbiamo modificati per non perdere i sensori di parcheggio e quindi anche quella è una modifica ulteriore che facciamo noi. Poi è stato installato un nuovo porta ruota con relativo terzo stop e porta targa in maniera tale da riequilibrare anche il posteriore. In questo caso vedete anche, non c'entra ancora la preparazione tecnica, è una questione solo estetica e funzionale, c'è anche un bellissimo track top specifico per questa vettura e nell'insieme è una preparazione piuttosto tecnica, anche se comunque non estrema. Ovviamente questa preparazione è omologata, sono preparazioni che facciamo veramente da tanti anni e quindi sono un po' un nostro fiore all'occhiello. Qualora fossi interessato a sviluppare una preparazione con noi, la facciamo anche su Wrangler JK, su Wrangler TJ, su YJ, una preparazione omologata, io sono a tua disposizione, il sistema più semplice per contattarmi via WhatsApp e il mio numero è 338-73-12725.